Chi deve raggiungere il Salento opta per il treno che arriva direttamente a Lecce ma non è così veloce o deve cambiare fiondandosi sul Frecciabianca delle 14.36 per arrivare alle 16 o sul regionale delle 14.40 o sull'Intercity delle 15.10 arrivando nel capologo Salentino non prima delle 17. Lei dove va adesso? A Lecce. E quindi prende un altro treno, come fa? Sì, devo prendere il Frecciabianca. A che ora lo prende? Già con 10 minuti di ritardo quindi non lo so. Verosimilmente quindi a casa quando arriva? Intorno alle 4.30. I primi passeggeri si dicono però soddisfatti di pulizia e confort in tutti e quattro i livelli di servizio del treno dallo standard all'executive. Meglio arrivare prima stancandosi anche di meno. Comodissimo, comodissimo. Ottimo, ottimo. E adesso dove andate? Polignano a mare. Abbastanza scandaloso che non ci fosse da questa parte la freccia rossa, no? Sono stanca ma è andato bene. Grazie. Grazie. Grazie.